La nostra città è suddivisa in tre terzi, terzo di Camollia, terzo di San Martino e terzo di città. Durante il nostro percorso abbiamo visitato tutti i tre terzi, individuando una contrada ed un palazzo su cui approfondire. Il terzo a cui appartiene il palazzo di cui andremo a parlare è il terzo di San Martino, composto dalle contrade Civetta, Leocorno, Nicchio, Torre e Valdimontone. Il palazzo San Sedoni, dal nome della nobile famiglia senese che ne commissionò la costruzione nel XIII secolo, è un edificio di importante valore storico-artistico e di grande rilievo istituzionale, in quanto è attualmente sede della fondazione Monte dei Paschi di Siena. Si distingue per la presenza di una singolare torre a pianta rombica, che fu abbassata nel 1760, e per l'eleganza con la quale segue l'andamento curvilineo di Piazza del Campo. Gli ambienti interni del palazzo, dopo il totale rinnovamento del XVII-XVIII secolo, si caratterizzano per una decorazione molto suggestiva risalente al 1700, dagli affreschi dei melani e dei ferretti, alle finte architetture dell'Anderlini, dalle sculture dei mazzuoli, ai bronzi del soldani e del foggini. Importante è la presenza della cappella del Beato Ambroso, decorata con marmi preziosi provenienti da tutta Europa, che rappresenta uno dei maggiori episodi barocchi nella Siena del Tempo. All'interno di la cappella, vi si celebra la messa in ricorrenza della sua morte. Fondamentale è la presenza di una reliquia sigillata all'interno della cappella. Nel nostro percorso abbiamo attraversato l'anticappella, simile ad una sala da ballo barocca, affrescata sul soffitto con una tecnica prospettica data dalla posizione di colonne dipinte. Nella stanza sono anche presenti statue di marmo grezzo. In questi ambienti è esposta la collezione di opere d'arte acquisita negli anni dalla Fondazione Monte dei Paschi di Sieno, con lo scopo di contribuire al recupero del patrimonio artistico sienese. I dipinti di notevole pregio illustrano in modo cronologico e ragionato tutte le fasi salienti della storia dell'arte sienese, partendo da capolavori del XIV secolo fino ad arrivare all'epoca contemporanea. Esternamente notiamo l'imponente facciata falso-gotica realizzata tra il 1760 e il 1767 per unire 5 precedenti costruzioni. Analoga trasformazione avvenne anche nella parte posteriore sui via banchi di sotto, dove è l'ingresso del palazzo. La motivazione dell'unificazione delle 5 costruzioni è strettamente legata alla moda e alle tendenze del tempo. Anticamente le famiglie nobili mostravano la loro grandezza con delle tuorche. Con il passare dei secoli si iniziò a voler costruire palazzi per mostrare la propria maestosità. In conclusione uniamo a questo video di presentazione del palazzo una brochure da noi ideata. Grazie a tutti.